C'è anche il Museo Archeologico di Pessum tra le gallerie italiane al centro del progetto del Ministero dei Beni Culturali Fumetti nei Musei, un'iniziativa che punta ad avvicinare i giovani utilizzando linguaggi a loro più consoni come quelli del fumetto, alla cultura e alle collezioni d'arte e storia presenti nel nostro paese. Sono state realizzate così 22 graphic novel dedicate ciascuna ad un museo italiano attraverso storie di fantasia create appositamente da fumettisti di fama. Per Pessum è toccato a Dottor Pira al secolo Maurizio Piraccini, autore dei fumetti della Gleba e già noto per le sue collaborazioni con Smemoranda, Repubblica e Rolling Stones. Ha illustrato le bellezze e i contenuti del locale museo attraverso un albo dal titolo Ippocrate Jones, due personaggi che si addentrano nelle sale e finiscono per fare un viaggio nel tempo approdando nell'antica Poseidonia. L'iniziativa del MIBACT è stata presentata ieri dal ministro Franceschini a Roma, Pessum al pari di più celebri siti come quello di Capodimonte, Pompei, la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Genova, la Galleria Borghese a Roma e gli Uffizi a Firenze e al centro di questa prima parte della campagna che ha interessato i musei a gestione autonoma e che poi sarà allargata ad altri 10 musei autonomi e ad almeno un museo per ognuno dei 17 poli regionali, così da arrivare a 49 fumetti da raccogliere magari in un volume in commercio, in bookshop e librerie. Per ore 22 albi già pronti, da metà marzo debutteranno in 3.000 copie destinate ai laboratori didattici, verranno distribuiti cioè gratuitamente nei rispettivi musei ai ragazzi che parteciperanno alle attività didattiche. In seguito si potranno leggere online presso i siti dei musei stessi. Ogni albo è costituito da 24 pagine, 18 dedicate al fumetto e le altre destinate a brevi presentazioni del museo, approfondimenti e immagini delle opere ed arte lì contenute. Le copertine degli albi e una selezione delle tavole assieme a schizzi e bozzetti originali degli artisti intanto sono al centro di una mostra allestita a Roma presso l'Istituto Centrale per la Grafica che potrà essere visitata fino al 1 aprile.